Eccellenza, oggi è la presentazione del libro dell'Avvocato Federico Ferraro, La libertà di pensiero, coscienza e religione nel sistema universale dei diritti umani. Quando parliamo dei diritti umani parliamo del rispetto e della dignità della persona. La persona sta sempre al centro. Se non teniamo conto di questo e non ritorniamo a prendere seriamente in considerazione la persona, il rischio è quello di guardare sempre gli altri come se fossero dei numeri. O di considerarli da serie A o da serie B. La persona è universale. E proprio perché è universale, abbraccia il mondo intero ed è presente dappertutto. La dignità sta alla base di ogni cosa. Per cui se noi non rispettiamo la dignità della persona nei suoi diritti e in quelli che devono essere anche naturalmente i doveri della persona stessa, se non c'è questo connubio chiaramente noi non potremmo mai parlare di una vera e propria umanità. Ma dovremmo parlare, come già Giovanni Paolo II ci insegnava, di un nord del mondo dell'umanità che schiaccia un'umanità del sud. E non è possibile che ci siano due umanità. L'umanità è una sola. Per cui penso che il nostro bravissimo autore, il dottor Federico Ferraro, in questo testo che noi oggi abbiamo presentato, ha voluto mettere in evidenza anche per l'impegno che lui quotidianamente vive a contatto con delle realtà abbastanza emarginate, diremmo, tipo quanti stanno nelle case circondariali, per il suo impegno che quotidianamente, ecco, lui ci mette, la dignità dell'uomo anche nei confronti di coloro che hanno sbagliato nella vita va salvaguardata perché ognuno, diremmo, con il pensiero della Chiesa che tutti i papi hanno voluto riprendere, si condanna il peccato, ma bisogna aiutare il peccatore a redimersi. La libertà di pensiero, un valore importante che ci rende liberi nella scelta e non dobbiamo essere giudicati per le nostre scelte. Ma oggi si parla tanto di libertà. Io mi sto chiedendo dove sta questa libertà. Perché se la libertà deve essere a senso unico e se c'è un unico pensiero e con la difficoltà maggiore che stiamo incontrando oggi è esattamente questo, il pensiero unico. Non è possibile perché se c'è un pensiero unico significa che non c'è possibilità di confronto. E se di libertà dobbiamo parlare, dobbiamo parlare anche tenendo presente che ognuno ha il diritto di esprimere il suo pensiero, la sua opinione, di professare la propria fede, difendere anche determinati principi che spesso e volentieri vengono calpestati solo ed esclusivamente in nome di una libertà che alla fine non è assolutamente quella che noi intendiamo. Se noi vogliamo negoziare determinati principi, se noi vogliamo mettere in evidenza che tutto è possibile, è un discorso. Se invece vogliamo parlare di libertà dobbiamo accettare anche l'opinione diversa dell'altro. È il confronto per cui non bisogna fare le cosiddette, diremmo, crociate verso nessuno, ma neanche gli altri hanno il diritto di fare crociate verso coloro che la pensano diversamente. Oggi mi pare che un po' si vada a senso unico e quindi questo tipo di libertà non mi pare di coglierla.